Mi rendo conto, forse non è semplice da fare, ma insomma nella classifica dei personaggi che hai sottoposto a ipnosi, quali sono nell'ordine, mettere nell'ordine diciamo cinque più ricettivi dal punto di vista della, insomma, come soggetti ipnotizzati. Per forza anche la vera marina è davvero male, che è un buon soggetto, anche Dario Argento mi ha dato molta, c'è un'altra attrice della fortissima, la diarinaldi forse devi fatto anche, ultimamente si è un soggetto recettivo, anche la Cipriani, se noi parliamo di personaggi di adesso è quella meno non recettiva, quella che mi ha, che non ho mai approdizzato è la seconda avventura, perché lei aveva paura, se uno vuole non si fa approdizzare, io credo sempre, ho letto che riesco più a ridere, era lì, voglio dire, lei era spaventatissima, allora la sua reazione, poi ci ha abbandonato, poi c'era Mara, figurati Mara, che disturbava, cioè, questo non vuol dire che lei non è un soggetto abile, cioè i soggetti che si può stabilizzare, devono essere fortissimi, devono essere forti caratteri, caratteri, caratteri naturalmente, non devo, cioè, è come se fosse una sfida tra te, ma no, 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 perché io chiedo, dico la cooperazione, se io ti chiedo di stare, cioè, di pensare il mare, tu mi pensi la montagna, già questa è una cosa che ti stai, cioè non vuoi entrare, hai paura, che ti fa paura, non vuoi, non vuoi cedere la tua volontà, sempre l'aspettacolo, se poi io devo fare un intervento, che le ho fatte, intervento agli ospedali, io insieme con Sodaro, sai che è Sodaro, no, un medico qui, non so se avesse ancora vivente, ma io ho fatto un sacco di interventi, voglio dire, però, come si chiama ipnosi, terapia, terapia ipnotica, come si dice, cioè, cioè, come si dice, ipnosi, terapia, ipnosi, terapia, sì, sì, no, era per capire termine, sì, sì, con dei buoni risultati, certo, che cosa ottieni, un rilassamento del paziente, no, no, per l'interno, no, mi ricordo, ho una suora, che non poteva essere anestesizzata, sai, io sono quelli un po' sopra la stessia, mi ricordo allora, che mi hanno chiamato, e volevano che io, posso aumentare, perché non poteva fare la stessia, ci giocassi qua, qua c'è more, non può fare la stessia, siccome c'era un chiodo conficcato dentro, e bisognava intervenire, aprirla, allora io, mi sono allenato un po' con questa sua usuora, ho avuto un po' un paio d'ore di parlarci, eccetera, eccetera, e gli ho detto di seguirmi, gli ho detto, sia tranquillo, sia la seguo, gli ho ceduto completamente l'intervento, gli hanno fatto questo intervento, sai, togliere un chiodo dentro il dito, ah, un chiodo nel dito, James, James, c'è la James, 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 vieni qua un po', ho bisogno di te, ma che sta facendo? Vieni qua, ti stavo raccontando, quando ho fatto quell'intervento dalla stessa ora, che aveva un chiodo dentro il dito, c'è una fruttura scomposta nel quinto dito, c'è una fruttura scomposta nel quinto dito, che aveva un filo di scinello, vabbè, non puoi usare qualora di difficile, un chiodo c'aveva, un filo, si un filo, un filo, era un chiodo, c'è, eh, ho capito, e vi è un chiodo, è più, come si chiama, un filo, non parlare ai tempi dei medici, quant'anni avevi tu? Eh, ma questa mia, la fattura non è su un chiodo, e siccome questa sola era operata, poi è cascata per terra, il chiodo è entrato dentro, ah, ok, ha fatto, ha capito, e siccome lei non si poteva operare, e ho fatto queste ipnosi a questa sola, e lei veramente tranquilla e serena. E qualcuno ha mai ipnotizzato te? No, perché io non voglio cedere la mia volontà, anche perché non ho mai incontrato un ipnotatore che mi ha fatto una cosa del genere, io semmai mi auto-ipnotizzo, io tutti gli esperimenti che faccio estremi sono sotto ipnosi. Quando io cammino sui cabboni ardenti, quando io faccio l'interramento, l'acqua, la pinea. Tu hai fatto due isole, hai partecipato nel 2008 e nel 2018, e entrambe le volte si è andato via per problemi di salute, insomma, c'era stato qualche... La prima volta è stato il mio figlio, che lui è il calcone che ha il primo anno di medicina, e quando io mi sono svenuto con tutti gli altri che svenivano, mi sono scusate, lui si è spaventato, allora la faceva all'isola, la faceva a Simone Ventura, c'era pure il mare che faceva l'isola, James, c'era pure il mare come operonista in quel periodo, e James si è arrotto i coglioni, ha cominciato ad amare, è andato a casa di Simona, ha parlato con Gori, mio padre può stare lì, mio padre è diabetico, mio padre c'è il cuore, tutto, si è inventato un qualsiasi cosa, era spaventatissimo. E quindi ti hanno fatto rientrare? Mi hanno fatto rientrare, io poi quando ho visto il collegamento che c'era lui, ho capito che sono tornato, invece la seconda? La seconda? Nell'anno scorso, giusto? L'anno scorso, stavolta James non vuole sapere nulla, che ha detto alla produzione, io non voglio sapere niente, mio padre è capace di intendere di volere, io non mi mischio, gli ha detto, e così ha fatto lui, ma purtroppo lì alla quinta puntata mi sono fatto male perché avevo quattro posto le ruote, come si dice? Concluse, cioè come si dice? Vieni qua! Ho avuto cinque brazzoni costanti, ho una conclusione pulmonare. Cinque, com'è cinque? Cinque fratture costali e due scomposti. Sono stato sfigato, è una caduta che ho preso in barca e una quando facevo un gioco. E lì poi sono restito ancora due settimane perché queste non le mandavano più. teoricamente dovevi tornare, ma poi... Loro si sono inventati questa cosa di stare nell'isola, però ero... stavo... ho vattato completamente, non mi facevano andare in su un paio, ero chiuso, in prigione. E poi nella diretta, e poi la seconda volta, mi dovevo per forza andare via perché avevo paura che mi succedesse qualche cosa, che casco per terra e non potevo stare perché se... non potevo fare male, cioè poi i polmoni... Quindi sta voglia di isola ti è rimasta dentro ancora nel senso di provare a partecipare e vincere. E vincere mi... Io a me stavo bene, io all'isola, ancora adesso... Anche se c'è il moschito, se cosa è... Io, credimi, stavo benissimo. Adesso possiamo dirlo che torni o è... Guarda, io ho sempre detto non c'è due senza tre, ho sempre detto che voglio andare all'isola e io spero che accogliano questo mio appello. Io voglio fare l'isola, ma non tanto per vincere, per fare... perché stavo bene, per la mia salute e perché voglio vedere i miei alberi. A me quella forza che avevo, perché io veramente... mi sentivo un Ercole, non lo so, io parlavo con le mie piante, parlavo con la natura, parlavo con la sabbia, parlavo... cioè, col sole, mi faceva la mia amministrazione che mi dava una carica tremenda, aveva un'energia che spaccava il mondo. Purtroppo non ci voleva che questa cascata ... che aveva contusse queste costole, quello bello. comunque c'è un'ipotesi concreta insomma, che ti possano chiamare o è soltanto, come dire, una tua aspirazione? No, c'è, c'è, c'è. Perché c'è una, insomma... Sì, sì.